Il 2 giugno del 1946 il referendum istituzionale scelse la forma repubblicana come forma di organizzazione dello Stato, una forma che quindi garantisce a tutti noi cittadini la possibilità di sceglierci i nostri rappresentanti ad ogni livello, in secondo luogo perché quel referendum fu un referendum a soffragio universale, il primo a soffragio universale e cioè anche le donne poterono votare e oggi è molto importante riaffermare il tema dei diritti delle donne e delle pari opportunità in genere. In terzo luogo perché è il momento in cui tutte le cariche istituzionali dai sindaci al Presidente della Repubblica si ritrovano insieme per una importante festa che mette insieme tutti gli italiani a prescindere dal proprio colore politico. È per questo motivo che tutti i sindaci ci saranno e io ci sarò.